Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Il 21 giugno, tra pochi giorni, avremo il sostizio d'estate nell'emisfero boreale, quindi il nostro. È un momento chiave dell'anno solare e quindi ho pensato di suggerire un piccolo rituale, una stesa per celebrarlo con i tarocchi. Dunque, parliamo brevemente di cosa è il sostizio, è il sostizio d'estate nello specifico, però prima per chi non mi conosce mi presento brevemente. Sono Minti di Mintitaro, sono una cartomante e anche una tarologa e insegno i tarocchi, perché mi piace particolarmente, a chi ha già un livello base e vuole migliorare la propria lettura per raggiungere un livello professionale. Per chi volesse contattarmi per corsi e programmi sia individuali che di gruppo, mi può contattare alla email mintitaro-gmail.com Però adesso iniziamo. Come ho detto, il 21 giugno cadrà il solstizio d'estate e è un momento chiave perché in questo giorno, in questa data, le ore di luce saranno al loro massimo e quindi la luce, l'energia del sole raggiungerà proprio l'apice, dopodiché inizieranno le ore di luce a diminuire gradualmente durante tutta l'estate fino a diminuire al loro punto minimo durante il solstizio d'inverno. Il solstizio d'inverno è quello che tradizionalmente inizia il ciclo solare e questo viene a finire appunto con quello d'estate, col solstizio d'estate. E' il solstizio d'estate un tempo chiave nell'anno anche agricolo delle società preindustriali perché è il momento in cui si trebbia e si inizia il raccolto del grano che si è seminato nei mesi precedenti, verso marzo. Quindi è il momento in cui si raccoglie il frutto del nostro lavoro e ci si prepara poi per tempo, diciamo, alle ore più fredde in autunno. Quindi è il momento, il solstizio d'estate in cui l'energia solare è al massimo e si celebra appunto il potere e l'energia che il sole ci dà e che viene rappresentata molto bene dal mazzo dei tarocchi appunto con l'arcano maggiore del sole che indica chiarezza, che indica sicurezza in se stessi, valore che noi diamo a noi stessi, chiarezza mentale, energia vitale, mettiamola così. E quindi come si può celebrare questo momento molto vitale appunto dell'anno solare? Dunque siccome in concomitanza negli stessi giorni ci sarà la notte di San Giovanni, consiglio comunque di raccogliere delle erbe tipiche di questo periodo dell'anno tra cui l'erba di San Giovanni o iperico, potete anche fare una tisana con l'iperico, fate attenzione se non siete in grado di riconoscerla bene potete benissimo comprarla in erboristeria e fare una tisana mentre leggete le carte. Oppure appunto come un tipico rituale per la notte di San Giovanni potete raccogliere durante la sera le varie erbe che trovate nel vostro giardino o durante una vostra passeggiata nei boschi, erbe spontanee, mettiamola così e poi metterle su un vostro spazio sacro, sul vostro altare a modi offerta diciamo al pianeta come veniva chiamato in epoca passata al pianeta del sole che poi in realtà è nastello, lo sappiamo tutti però prima diciamo dell'epoca moderna veniva considerato comunque un pianeta. Dopo aver diciamo preparato il vostro altare, il vostro posto di lettura con queste erbe, dopo aver preparato una tisana di iperico, erba di San Giovanni che avete comprato in erboristeria, ve lo consiglio altamente di comprarla in erboristeria senza fare da soli, potete leggere le carte con una stesa che appunto serve a capire cosa state raccogliendo in questo momento dove potete appunto splendere di più un po' come il sole. Ve la mostro con questo mazzo, adesso mischio leggermente e focalizzate l'attenzione su appunto cosa è importante sapere in questo momento per il momento del sostizio d'estate. potete anche accompagnare la lettura con una candela, in questo caso gialla appunto perché celebra l'energia vitale del sole oppure dorata e accenderla accanto a voi mentre leggete appunto le carte. dopodiché scegliete cinque carte la prima posizione indica qual è la forza su cui possiamo poggiare cioè le nostre qualità preminenti su cui possiamo fare forza la seconda indica le opportunità che sono di fronte a noi che noi possiamo appunto cogliere e la terza come possiamo appunto sfruttarle al meglio queste opportunità cosa invece dobbiamo evitare è la quarta posizione e poi cosa possiamo raccogliere cosa raccoglieremo anzi mettiamo un pochino più predittiva questa estate quindi riassumo questo è il centro del sole quindi la forza su cui poggiate le vostre qualità quello su cui potete farvi forza le vostre risorse la numero uno la seconda le opportunità che avete davanti che potete cogliere la terza il consiglio delle carte su come sfruttare al meglio queste opportunità la quarta cosa invece è meglio evitare e la quinta cosa raccoglierete alla fine durante quest'estate se seguite il consiglio delle carte quindi adesso vediamo un attimo cosa è uscito fuori ma questo è il caso così di studio beh è una bellissima stella come punto di forza quindi una forte speranza un forte obiettivo una connessione con il mondo che vi circonda perché la stella è colei che riesce a condividere se stessa con l'ambiente con gli altri versa l'acqua nel lago rinnova l'ambiente attorno a sé lo nutre lo arricchisce una bellissima carta poi le opportunità di crescita per esempio abbiamo il cavaliere di pentacoli di denari che è una carta di cammino solido davanti a noi stabile c'è l'opportunità appunto di andare avanti nel nostro percorso in maniera coerente di concretizzare quello che vogliamo davanti a noi può anche manifestarsi nella nella figura nella persona concreta che ha le qualità del cavaliere di denari ovvero una persona coerente solida che può aiutarci nei nostri obiettivi visto che è comunque una figura dei tarocchi come sfruttarla al meglio beh continuando il nostro viaggio con il sé di spade lasciando dietro a noi le nostre preoccupazioni mirando avanti senza farci fasciarci la testa con preoccupazioni non necessarie cercando di puntare al nostro cammino goderci il viaggio diciamo cosa invece dobbiamo evitare in questo periodo per appunto cogliere e sfruttare meglio questa opportunità evitare un atteggiamento troppo non neanche impulsivo però insomma attenti ai rischi non fare il passo più lungo della gamba infatti qui diciamo queste due figure sono abbastanza opposte perché il re di bastoni è un po' il prototipo dell'imprenditore è quello che prende dei rischi in maniera ovviamente capace però in questo momento le carte consigliano di non prendersi rischi non necessari di seguire un percorso più calmo, più sicuro, più cauto con il cavaliere di denari senza fare appunto il passo più lungo la gamba cioè godendosi il viaggio vedete come sono coerenti non saltate andate avanti piano piano ecco con il sei di spade e poi l'ultimo cosa si potrà raccogliere quest'estate ah bene sono tante figure il re di spade indica una decisione sicura un percorso sicuro potremo cogliere una sicurezza di noi nel prendere le nostre decisioni nel scegliere il nostro cammino una mente chiara una mente decisa ecco mettiamola così quindi vedete quello che stanno dicendo le carte questo ovviamente è un discorso molto generale perché è rivolto a tutti noi è che siete in un momento molto importante molto fortunato pieno di risorse e le carte vi consiglio di seguire il vostro cammino senza tante preoccupazioni però in maniera tranquilla cauta senza prendere rischi non necessari e alla fine dell'estate avrete una chiarezza mentale la chiarezza necessaria per appunto realizzare i vostri i vostri sogni la chiarezza e la sicurezza di voi la come dire la mente serena chiara lucida ecco lucida per poter seguire il vostro cammino in maniera ancora più serena rispetto a questi giorni mettiamola così bene spero che questa piccola lettura generale vi sia stata di aiuto fatemi sapere cosa viene fuori a ognuno di voi per quanto riguarda questa stesa e scrivetemi nei commenti appunto come è andata la vostra lettura se vi è piaciuto il video e questa stesa vi invito a mettere like a condividere il video con chi può essere interessato a vederlo e noi ci vediamo presto ciao 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 ciao